...se tre sono i punti di distacco in classifica tra le due formazioni. La rabbia della sconfitta di Verona lancia subito la Roma in attacco con una lucidità davvero impressionante. E la Roma condurre le danze e far ballare la difesa bianconera che alla mezz'ora deve capitolare per la seconda volta. Cross di Ancelotti, testa di Pruzzo ed è gol. Secondo tempo è una celebrazione del primo, ormai la partita non ha più nulla da dire, il gioco della Roma è scandito dai canti delle curve giallorosse. Pruzzo si fa espellere per somma di ammunizioni e in dieci la Roma manda in gol Sereso, una bellissima rete che suggella una vittoria storica da incorniciare. Il brasiliano saluta l'Olimpico, una sicura partenza la sua, nel ricordo bellissimo di questo 3-0 alla Juventus.